presentano i bollini sulle proprie etichette, agiscono e lavorano su mercati differenti, quindi sui mercati dell'alta qualità a prezzi nettamente superiori. Se vediamo, quindi, diassime etichette di crassia, si usano stickers di agonismi e si sono afevvino a molti nisagorri e, sicuramente, con tibini molto elevati. Ma anche tutto quello che ho appena nominato non basta. Ci vuole anche un aiuto che venga d'acqui, dalle organizzazioni di produttori, dallo Stato. Un aiuto che non deve essere per forza economico diretto alle aziende, questi ci sono già. Ma un aiuto all'apprezzamento nel mondo del brand Made in Grecia. Alla mi lai per l'acquittimazione che potrà accettare il Made in Grecia nel mondo. Finora sono poche aziende che stanno utilizzando questa via di promozione che è molto importante. In Grecia c'è molto poche aziende che utilizzano i prodotti che è un prodotto dell'Elazio come strumento di prodotto. Però mettere insieme per promuovere solamente un brand è la via migliore forse l'unica da perseguire. Lo fa bene la Spagna. Alla dovrebbe essere un brand grande, come può essere un brand olio della Grecia. Apre le strade qui ai grandi produttori che poi possono far apprezzare il proprio nome. Ma se non parte una promozione del brand Made in Grecia, come è possibile che un consumatore, in qualunque parte del mondo, sia disponibile a spendere gli stessi soldi per un olio italiano. Alla cosa voglio dire, non c'è bisogno di inventarsi qualcosa, basta usare gli strumenti che già existono. Quindi l'idea che domani, ma già accade, l'olio greco possa trovare collocazione nel mercato dell'alta qualità mondiale, è ancora più certo. Certo o sì? Sicuro, è più certo. Come dicevo all'inizio sono nuovi i nostri competitor che stanno arrivando sul mercato, che non vengono solo dall'Europa. Quindi è con grande orgoglio che quando sono in giro per il mondo dove il lavoro mi porta nell'hemisfero nord-sud, vedere delle etichette italiane, spagnole, greche. Per me è veramente un grande motivo d'orgoglio vederla in quel mercato. Ora, quando sei in queste nuove leocomiche leocomiche, mi senti una grande perifanità, quando si riempie un brand di l'olio, che sono italiana, ispanica, e l'egittina, che sono in generale dell'Europa, mi senti una perifanità. Però c'è sempre un però alla fine. Però, perché sempre c'è anche l'allà. Attenzione, perché questa sovra esposizione, cioè questo essere presente nei mercati, se poi alle spalle non c'è un prodotto consolidato, una qualità consolidata, può diventare un boomerang. Alla fine, perché se vengono in queste agorazioni, ma se non avete in casa un prodotto reale, un prodotto reale, un prodotto reale, di piotetà, tutto questo può diventare un boomerang. costruire un brand necessita una vita a volte. Per distruggere, credo che basta in un minuto. Alla, per la pericolazione, ci arricchisce un minuto. Bene. Cosa potrebbe, però, questo Made in Greece brand di prodotto? Perché, per esempio, c'è l'elemento dell'elemento politico. Come si può il marco Made in Greece essere promosso, perché dallo Stato greco c'è una mancanza di supporto. Bene. Attenzione. Ho detto prima, sia lo Stato greco, ma anche le associazioni di produttori. Alla, i peperini, it to elenicocratos, it nosis, organosis paragogon. esistono. Sono state create e l'Unione Europea finanzia questo tipo di attività. non voglio bruciare tutti i temi che verranno trattati domani nella conferenza, però c'è da dire che oggi ci sono dei fondi europei che questa terra che si è generata Lo Stato, l'Unione Europea, le Regioni, le Prefetture, le Associazioni. Cratus, l'Europa, i Periferea, i Ommades, i Eteriei. Devono insegnare come si va sulla bicicletta. Prega di didattere come si va qualcuno, si va qualcuno sul povedilato. Ma poi bisogna pedalare da soli. Alla, però, metà, dovete studiare a fare il povedilato soli. Non è molto relativo a questo argomento, però, alletto, nel press list che abbiamo rilanciato. Sì. Che dobbiamo parlare ai consumatori finali del amaro e picante. Certo. consumatori sa consumare, sa consumare nella tavola l'olio? Sì, questo è, diciamo, l'obiettivo che io personalmente mi sono posto, quello di lavorare molto per far capire che un olio di qualità deve essere fruttato. Quindi, al naso deve sentirsi. Se non è un'altra cosa, se non facciamo la battaglia contro l'olio di Semi. Oli amari e picanti, se proprio non vi piacciono, io spiego, attenzione, dietro le molecole responsabile di amare picante ci sono molecole buone per la nostra salute. E poi è come le peggiori droghe. Una volta che li hai assaggiati, li hai usati, non torni indietro. E, allo stesso, è come il migliorno del narcotico. Mora hai usato il piccolo e il piccolo, e lo hai utilizzato, non c'è il migliorno. In Grecia, almeno succedono i altri paesi del Mediterraneo. C'è un grande problema con i cambiamenti del clima. Questo può influenzare la qualità dell'olio. Hai notato che si creano dei problemi che non possono essere risolti? Allora, è vero che negli ultimi anni sta cambiando molto velocemente il clima. È vero che in ultima settimana le cambiamenti climatiche sono terapeutiche. Però siamo davanti a un albero, l'olivo, e siamo proprio qui in Grecia, no? Si racconta dell'albero immortale piantato da Atena. Ma siamo sempre in un'albero, l'albero di Atena. Appunto, immortale. Appunto, immortale. E lo chiamiamo iperonovio, che non può essere mai. In senso che è un albero che non risente di questi cambiamenti climatici in modo così forte come succede per altre varietà. Quindi, è un albero che non senti così forte la crisi climatici o così forte la crisi climatici, come le altre albero delle albero. Più più di 30 anni che mi occupo dell'industria dell'olio d'oliva. I primi alberi mortili ho visto solo per quella peste terribile che si chiama Xilella fastidiosa in Lecce, quindi in Puglia. Il vento lo può abattere, l'uomo lo può distruggere, l'albero ricresce. Ma anche a Superman, io lo chiamo il Superman degli alberi. Anche a questo Superman però non possiamo affidargli i destini del mondo, dobbiamo aiutarlo. Quest'anno l'anata è stata drammatica in tutto il bacino del Mediterraneo, tranne che in Spagna. L'Italia perde più del 60%, forse il 62% della produzione. La Grecia ne perde un terzo, si assessa sui 200.000 tonnellate. L'Elanda ha fatto un attrito, vrischete sui 250.000 tonnellate. Peggio ancora va alla Turchia. Quindi ci troviamo in un momento veramente difficile, però l'aiuto di organismi, di consulenti, l'aiuto di associazioni, l'aiuto anche di esperienze come quelle che ci ospitano stasera possono ridurre questi cambiamenti climatici e quindi gli effetti, chiedo scusa, dei cambiamenti climatici. Quindi è importante capire che i servizi, le scuole, le scuole, le scuole, le scuole, le scuole, le scuole, come quelle che ci stiamo a presto e le scuole, possono aiutare in un'attività e in un'attività di miglioramento che si rischiano in un'attività di risposta. Se si evolvono questo clima, si devono evolvere anche le nostre armi. Quindi, se si continui il clima, si è successo così, quindi, così, e dovremmeno uscire le nostre armi, le nostre armi. Attenzione, armi non significa per forza l'uso della chimica massiccia. Quando dice armi, non significa la chimica e la fidofarmaca. Ma armi significa aiutare. Sembra strano, molte volte una potatura fatta bene, aiuta la sanità proprio delle bianche. Una concimazione equilibrata. Fertilizzazione equilibrata fa crescere bene l'albera. Quindi quello che è successo qui lo conosco, ma ancora meglio quello che è successo in Italia quest'anno. Chi ha affrontato nuovi problemi con le vecchie idee, ha fallito. Chi invece ha seguito questo e ha intervenuto nel migliore dei modi, forse ha ridotto la quantità, però ha prodotto. E' alta qualità. E poi basta. Non ce la faccio più a sentire. E qui in Grecia lo sento un po' di più che nelle altre parti del mondo. E' alta qualità. E' alta qualità. E' alta qualità. Se la legge dice che 0,8 ancora un olio extravergine vuol dire che è un limite che è sopportabile. Io mi, come dire, mi spingere la mia attenzione più su quelle caratteristiche, un organolettiche che sono le cose più importanti. E' alta qualità. E' alta qualità. E' alta qualità. Per quanto riguarda l'analisi sensoriale, c'è un limite massimo o sempre c'è la possibilità di arrivare in punti più alti? Bene. L'esperienza dice che la cosa che sta aiutando moltissimo nella qualità dell'olio è la tecnologia. E' una grande gestione del frantòio ci dà la possibilità di ottenere dei grandi oli. E come giusto poco tempo fa ho detto in un seminario sull'uso dei frantòi e sulle novità che c'è nel mondo dei frantòi, in Creta da poco, quello che voglio dire è che non serve l'ultima macchina per fare l'altissima qualità ma serve tantissima esperienza e uso del cervello a volto. Come ho detto molto prima in un seminario che ho fatto in Crete con l'utilizzo dell'olio, il fatto di fare un'olio molto bene, non è necessario. Non è necessario avere l'olio, non è necessario. Non è necessario avere l'olio, non è necessario avere l'olio. Puoi avere un'olio più, ma avere molta esperienza. Quindi è questo. Diciamo che l'olio ha ancora, secondo me, secondo la mia esperienza, ancora dei risvolti da scoprire. Quindi non abbiamo ancora scoperto tutto della coroneica, non abbiamo scoperto ancora tutto delle varietà italiane, delle varietà greche, delle varietà spagnoli. Quindi, secondo me, secondo me e l'olio e l'olio, abbiamo molti problemi per rispare con l'olio, perché sicuramente non abbiamo iniziato al migliore della coroneica e tutte le varietà italiane, e tutte le varietà italiane, perché credo che abbiamo ancora di più. E per la relazione e l'olio 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 e l'olio. L'olio e l'olio e l'olio è l'olio e l'olio è l'olio e l'olio e l'olio è 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 l'olio. L'amore per questa terra risale a tanti anni fa ed è stato molto casuale. L'agapia per la Messinia per questa terra ha ξεκιnato molte anni prima e era in tichia. Conoscevo prima questa terra, l'ho frequentata anche soltanto per passarci le vacanze. Poi ho conosciuto le persone giuste forse che mi hanno fatto anche innamorare dell'olivicoltura di questa terra. E negli ultimi otto anni diciamo ho avuto tante occasioni per fare formazione qui quindi per raccontare un po' quello che è l'olio ex-vergine d'oliva in questa terra. Questa terra mi ha regalato tantissime cose. Alla, ovunque, dalla sua terra, la Messinia è riuscita. Tante esperienze, tantissime possibilità di conoscere a fondo le varietà. E questo amore ho cercato in un certo senso anche di restituire perché nell'amore si prende ma si deve dare. E l'anno scorso ho avuto l'idea di istituire grazie alla collaborazione appunto con la scuola grazie al grande lavoro e bisogna dirlo questo non perché loro ci stanno ospitando ma bisogna dire il grande lavoro che stanno facendo nella selezione, nell'individuazione dell'altissima qualità. E appunto, appunto, questa collaborazione con loro è nata l'idea di regalare e anche un premio speciale che tutti gli anni mettiamo in palio per le migliori aziende proprio della Messinia. E per questo motivo, a causa della molto buona ragazza che ha fatto, ha deciso di fare un'attività, il meglio della Messinia, nel'attività della Messinia. Sono ben quattro i premi assegnati alla Grecia dell'alta qualità quest'anno. E il 50% viene da questa terra. Non voglio fare i nomi perché è una cosa sembra indelicato per gli altri. Diciamo che riuscire a portare a casa due premi importantissimi da quest'area significerà qualcosa. Quindi, al di là del nome, è il fatto che mi interessa, il trend che si sta costruendo, quindi dell'alta qualità. Non è nemmeno che un nome. Non è nemmeno che ci sta costruendo un trend di più alto. Se quest'anno vincere altre aziende, significa che cosa? Significa che le vecchie non erano bravi? Assolutamente non. Significa che cresce questo movimento. E questa è la cosa importante. Sì, è vero. Il più importante è che se fai avvino i altri aziende, non significa che i aziendei che i aziendei hanno perduto i aziendei, che i aziendei hanno perduto i aziendei. Sì, è vero. Sì, significa che qui si crea un trend che si crea un trend che si crea un alto alto. E questo è fantastico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.